Sì, è buono. Questo bisogna bello fresco per capirlo bene. È buono fresco. Fresco? Sì, sì, no. Grazie. Sì, fresco. Oh, buon anno, 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 buon anno. Eh, caro amico mio, quando si ha delle responsabilità della poliglia, tutto va male, perché tutti sulle mie spalle, tutti sulle mie spalle. Adesso, per esempio, non per accortarmi a fare miei eri. Adesso devo pagare il funerario della mia povera mamma. Dio che brassi l'anima. È morta venti giorni fa, di 94 anni, poteva vivere ancora. E mio nono, mio nono, mio nono. E ha detto, non lavora più, infermo. C'ha la paralisi infantile. Mio figlio, mio figlio, che ha 18 anni, potrebbe lavorare. Ma che ha la mania del canto, studia il canto e io pago, e io pago, e io pago. Speriamo almeno che ci riesca. Poveretto, è sardomuto della nascita. E mia moglie, non conosci mia moglie, mia moglie. Due anni che non riesco a parlare con mia moglie, due anni. Per me interromperla. Vanno sempre lei, vanno sempre lei. E io favo per tutti, lavoro per tutti e bevo per tutti. E come sono? Del resto tutto bene, del resto tutto bene. Ehi, ciao, lascio. Ehi, caro, che è il signore. Ehi, non partico. Adio, ciao. Un po' così. Dire di essere sfidati di voi, eh? Sì. Sì, 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 sì. Oh, porca miseria! Oh! Come va? Come va? Come va? Sì, diteli. Un'altra disgrazia. Il mio cane! 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 Che troppo! Quattro persone! Sopra persone! E io pago per tutti! Mamma, venga, prego delle persone! Amore!